Ben tornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Come possiamo vedere dall'immagine satellitare, una vasta area di alta pressione che abbraccia interamente l'Europa centro-occidentale e tutto il nostro stivale. Insistono solo sulla Sicilia, annuvolamenti e breve riuvesci pomeridiani. Il bel tempo proseguirà per quasi tutto il resto della settimana. Ma andiamo a vedere il tempo in dettaglio sulle nostre regioni per giovedì 29 settembre. I cieli su entrambe le regioni si presenteranno sereni sia al mattino che durante il resto della giornata. Qualche annuvolamento potrà interessare durante le ore pomeridiane i monti della Basilicata, ma con nessun rischio di precipitazioni. Le temperature risulteranno in aumento solo nei valori massimi, le minime stazionarie e fresche. I venti assenti o deboli nord-occidentali, con riforzi solo sul Salento. I mari si presenteranno calmi ovunque. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Giorgio Pario che ci suggerisce questo incantevole foto che ritrae le sette cime del Monte Vulture, accompagnato da un tramonto mozzafiato. È stata ripresa da circa 50 chilometri in linea d'aria nelle campagne di Poggiorsini in provincia di Bari. E ricordate, se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!